All'apparenza era un normale venditore ambulante di abbigliamento come molti altri, ma gli agenti della squadra mobile di Lucca, sul suo furgone, hanno trovato un ingente quantitativo di droga. Ha colto nel segno l'operazione della questura nell'ambito del progetto Pusher, portato avanti dalla Polizia di Stato tra il 3 e il 4 febbraio in tutta Italia contro lo spaccio di stupefacenti. L'uomo arrestato è un 36enne marocchino di San Pietro Avvico, Isham Nassib. Si tratta di un marocchino, un incensurato regolare sul territorio, che fa l'ambulante e vende nei mercati della provincia capi di abbigliamento, biancheria intima, quindi si sposta normalmente con il suo furgone dalla Garfagnana a Capannori a Viareggio e non escludiamo che di tanto in tanto, durante la sua attività di vendita, possa anche cedere della sostanza stupefacente. Quello della Polizia è un sospetto che può dirsi fondato. Sul furgone del venditore, gli agenti hanno trovato alcuni scatoloni di indumenti in vendita e nascosti tra pigiami e calzini c'erano 20 chili di hashish in panetti, sequestrati anche un chilo di marijuana, 380 grammi ancora di hashish ma in ovuli e 300 grammi di cocaina. Nella sua abitazione sono stati rinvenuti anche 15.000 euro, ritenuti dagli investigatori provento dello spaccio.